Siamo negli anni 30 a Mosca, è l'unione sovietica terribile di Stalin ed è anche la città dove vive Mikhail Bulgakov che è l'autore di questa storia che è Il Maestro e Margherita. In quella città con un regime ateo materialista che non crede al trascendente, alla religione, a niente di tutto questo, arriva una strana combriccola guidata da un signore che si fa chiamare Voland e dice di essere esperto di magia nera con intorno dei personaggi bizzarri c'è una specie di gattone che si chiama Bemoth, una specie di strega e un diavoletto che si chiama Azazella, Azazello e che di mestiere fa sostanzialmente. il killer o qualcosa del genere. Vicino agli stagni del patriarca a Mosca incontrano due poeti che stanno discutendo, uno è un giovane che si chiama Ivan senza troppe qualità diciamo così, mentre l'altro è un pezzo grosso della società letteraria della città che si chiama Berlioz. Voland e Berlioz iniziano a discutere e il tema di questa discussione è se Gesù è veramente esistito, se era un personaggio storico o se è una figura letteraria, un personaggio come Amleto, come Romeo e Giulietta eccetera eccetera eccetera. Voland sostiene che era un personaggio reale, che lui lo ha visto così come è stato a cena o a pranzo con Kant e quindi è inutile starne a discutere perché Gesù è davvero esistito. Berlioz chiaramente non può accettare una cosa di questo genere e cominciano a litigare. Voland a un certo punto dice guarda sta attento perché tu fra poco morirai in una maniera orribile, arriverà il tram, ti taglierà la testa e morirai decapitato dal primo tram che passa. Berlioz non ci vede più e va per chiamare le autorità per fermare questo pazzo che sta mettendo in dubbio delle verità ormai assodate e chiaramente muore esattamente come gli era stato predetto dal perfido Voland. Quindi questi diavoli, questi demoni, queste strane figure sono dispettose, divertentissime ma assolutamente feroci. Ivan che era lì cerca di andare a raccontare questa storia e chiaramente lo prendono per pazzo e lo chiudono in manicomio. Il poeta Ivan finisce in manicomio. All'epoca e anche negli anni successivi i dissidenti, chi la pensava diversamente in Unione Sovietica, veniva preso per pazzo e chiuso in manicomio. Che succede in manicomio? In questo ospedale psichiatrico Ivan viene avvicinato da un ex professore di storia che dice io non ho più un nome, mi chiamano il maestro, sono il maestro, che gli racconta una strana storia. Dice che a un certo punto aveva ricevuto un'eredità, aveva potuto smettere di lavorare, aveva scritto un libro dove si parla di Gesù, Yeshua in realtà, e di Ponzo Pilato, cioè del processo che Ponzo Pilato ha intentato a Gesù. Cosa è successo? Che in realtà questo romanzo non ha mai visto la luce perché la società letteraria del tempo non l'accetta, non lo può accettare, una storia di questo tipo nella Russia di quegli anni non è accettabile, così come non sono accettabili tante delle opere, tante delle cose che ha scritto Bulgakov, che sono state censurate, anche il maestro di Margherita è stato pubblicato molto dopo la morte dell'autore. Il maestro, preso da disperazione, ha bruciato il suo romanzo. C'è anche un altro motivo che ha portato alla follia il maestro e alla decisione di rinchiudersi ed è la fine sostanzialmente del suo amore per una donna bellissima, ma sposata, che si chiama Margherita, con cui lui ha vissuto una passione straordinariamente intensa. Quindi siamo all'interno del manicomio e abbiamo visto questo confronto, questo racconto struggente del maestro che ha in qualche misura buttato via la sua vita e deciso di restare chiuso lì dentro. Nel frattempo però a Mosca stanno succedendo tantissime altre cose, perché la banda di questi strani invasori sta mettendo in subbuio l'intera città. In teoria quella avrebbe dovuto essere la società comunista perfetta che il grande costruttore Stalin aveva finalmente portato alla luce, sistemato, eccetera, eccetera. In realtà quello che fanno i demoni e quello che fa Bulgakov è ridicolizzare la borghesia, i funzionari, le burocrazie e anche le cricche letterarie della Russia di quel momento storico, che è esattamente quello che il potere politico non poteva naturalmente accettare. Per di più, proprio per dare il colpo di grazia a tutto questo, che cosa fa Voland con la sua truppa? Decide di dare un grande spettacolo, perché lui è un esperto di magia, di magia nera e forse anche di qualche cos'altro, e quindi vanno a parlare col direttore del teatro di Varietà che cerca in qualche modo di resistere finché Azzazzello non lo spedisce a Yalta sulle rive del Mar Nero. Nel loro grande spettacolo mettono in ridicolo la borghesia, la nuova borghesia sovietica di quegli anni. Chiaramente era una cosa che stava molto a cuore a Bulgakov, come stava a cuore a Majakovski prima di lui, e che in qualche misura è uno dei temi di questo grande romanzo. Ma a questo punto noi manca un personaggio fondamentale che adesso entra in scena ed è Margherita, l'amata, l'amante del maestro che è disperata, che l'ha perso e che lo cerca ovunque. A un certo punto si risveglia e ha sognato che forse riuscirà a rivedere il maestro. A quel punto la vicina Azzazzello, il diavolo, le offre un patto. Io ti posso aiutare a ritrovare il maestro a patto che tu venga questa sera a una grande festa che verrà data dal nostro amico Voland. Però prima di partecipare a questa festa dovrai spargere tutto il tuo corpo con questo unguento miracoloso. Margherita naturalmente accetta per ritrovare, per salvare il suo amato, farebbe qualunque cosa. Si sparge lunguento sul corpo e lei è già una donna molto bella e molto affascinante ma si ritrova ancora più bella e totalmente ringiovanita. Diventa una strega e vola sopra il cielo di Mosca a cavallo di una scopa. Una delle scene più travolgenti, commoventi, divertenti, struggenti del romanzo. Fa anche qualche dispetto, nel senso che una delle cose che fa in questa grande passeggiata notturna nei cieli di Mosca della Russia è vendicare il suo amato. Quindi va dal critico letterario più cattivo, quello più carognone, quello che proprio aveva fatto soffrire il maestro e gli devasta la casa, gli fa un dispettone gigantesco. Poi finalmente dopo un grande giro sopra l'intero paese, nuda alla luce della luna, Margherita arriva a questa festa meravigliosa dove viene in qualche modo tentata da tutta una serie di presenze che sembrano uscite dall'inferno e che cercano di portarla dalla loro parte. Ma Margherita è pura, innamorata e quindi resiste a queste tentazioni. A quel punto Volan le dice va bene, ho visto chi sei, ho visto che sei fedele, potrai rivedere il maestro. Finalmente arriva questo incontro, loro si rivedono. Qui c'è un aspetto molto interessante che ha a che vedere poi con la censura che i regimi totalitari hanno esercitato nel novecento, ma anche continuano ad esercitare tantissimi regimi adesso. Volan restituisce al maestro il manoscritto che lui aveva bruciato con una frase che dice i manoscritti non bruciano, cioè la verità dell'arte, la verità della bellezza forse secondo Volan riescono a resistere anche ai regimi più oppressivi. E qui ci avviciniamo alla fine del romanzo perché maestro e Margherita si amano ma la situazione è veramente complicata, opprimente e l'idea è che loro, secondo Volan, abbiano meritato di raggiungere la pace. Per cui a Zazzello gli dà da bere un vino avvelenato e muoiono e insieme raggiungono l'immortalità, il maestro e Margherita per sempre felici. Ma non è ancora finita perché c'è un ultimo momento importante ed è che mentre questa strana committiva abbandona Mosca, i diavoli, il maestro e Margherita, chi incontrano sulla strada del ritorno incontrano Ponzo Pilato che da duemila anni si tormenta perché ha capito di aver commesso un errore che quell'uomo, Joshua, era un giusto che non doveva essere ucciso, non riesce a darsi pace e il maestro convince Volan a liberare anche Ponzo Pilato. È un romanzo pieno di realtà e al tempo stesso pieno di fantasia, è un'opera che usa tantissime leve diverse per cercare di scardinare quello che è la corazza di una realtà insopportabile, è un romanzo pericolosissimo e per il suo autore perché va ad affrontare temi e a portare in scena personaggi che non devono arrivare in scena, quella è l'epoca in cui viene messo a punto l'ideologia del realismo socialista, le opere d'arte devono raccontare la realtà e spiegare che è bella, spiegare quanto sono bravi i lavoratori, le lavoratrici, quanto è bello il mondo in cui si vive eccetera. Questo romanzo fa l'esatto contrario. L'altro aspetto assolutamente straordinario è che ci va a vedere come la letteratura, i romanzi, possano aprire dei mondi che noi non ci siamo mai neanche immaginati e poi in tutto questo mondo difficile, devastato, una straordinaria, grandissima storia d'amore.